in entrambe le direzioni. Due incidenti invece sono avvenuti sulla statale 36 del Lago di Come dello Spluga. Uno è avvenuto tra Labba, Via Lariana e Lecco in direzione di Milano, l'altro invece è avvenuto tra Verano Brianza e Via Comasina, siamo in direzione di Monza. Altro incidente che sta ancora provocando disagi sulla statale 106 Ionica, avvenuto tra Sant'Anna e la stazione di Isola... Torino, domenica mattina!